Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, colleghi, consiglieri e il pubblico, le persone coinvolte oggi da questo tema. Devo dire che ho ascoltato con attenzione l'intervento dell'assessore Cutini, che ovviamente ringrazio per la presenza dovuta, devo dire che a un anno dall'inizio della consigliatura ci saremmo aspettati molto di più, non dico neanche qualcosa di più, dico proprio molto di più. Io mi sarei aspettata quasi una lista della spesa delle cose fatte, in un anno abbiamo fatto questo, 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 abbiamo provato a fare questo, 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 stiamo lavorando su e invece abbiamo ascoltato una sorta di libro dei sogni, una sorta di elenco dei desiderata, delle cose ancora che vogliamo fare, che vogliamo organizzare, qual è la nostra visione, la vostra in realtà, la vostra visione dei servizi sociali, quali sono gli obiettivi, quali sono i propositi e gli auspici. Beh, direi che, come ha detto lei a un quotidiano un paio di giorni fa, visto che vi apprestate a spegnere la prima candelina, qualcosa in più poteva essere fatta. Abbiamo ascoltato le parti sociali e le parti sociali, uno tra loro ha utilizzato un'espressione che mi è rimasta proprio molto impressa, la città sta urlando, noi ascoltiamo un urlo dei cittadini e i servizi, se mi permetto di correggere o forse di integrare, quanto detto dal collega Pomarici, i servizi non finiranno il primo luglio, a Ostia alcuni servizi, e mi riferisco all'assistenza ai disabili e all'assistenza agli anziani, ha iniziato a vacillare già un mese fa, da maggio, il 28, cioè domani, in alcuni municipi, l'undicesimo mi pare, vedrà la necessità di tagliare. Noi abbiamo assistito a un anno in cui francamente io non ho visto nulla dell'attività dell'assessorato sulle politiche sociali, non dico che la commissione non abbia lavorato, la commissione ha lavorato. Effetti? Zero. E la città urla, hanno ragione loro, la città e i cittadini stanno urlando, perché questo è un servizio, questi sono servizi che il comune, che l'ente locale deve dare, la funzione dell'ente locale è questa, non è altra, ed è inaccettabile secondo noi, da cittadini, da cittadini, ancora prima che da amministratori, da portavoce, da consiglieri, è inaccettabile che quando si parla di bilancio e si cercano poi di fare quelle manovre necessarie a ripartire i fondi disponibili, no? È inaccettabile che come al solito le manovre coinvolgano la spesa corrente che significa i servizi, per cui si taglia la scuola per dare ai servizi sociali, si prende alla cultura per dare al rifacimento delle buche e via discorrendo. È inaccettabile perché significa comunque tagliare sempre sui servizi che l'ente dà ai cittadini. Ed è inaccettabile ancora di più per un'amministrazione che voleva cambiare tutto. In realtà non sta cambiando niente, opera in perfetta continuità con l'amministrazione precedente. Vi faccio notare sul punto che per esempio una spesa che non diminuisce ma anzi aumenta è quella relativa alle municipalizzate e alle partecipate. Vi ricordo infatti che il piano finanziario tariffama prevede un aumento di costi da 676 milioni più IVA del 2013 a 745 più IVA del 2014 meno gli efficientamenti 718, diciamo un aumento di 44 milioni. Lì ci sono e glieli daremo probabilmente, noi no, noi quattro no, voi sì. Atac passa da una perdita di 156 milioni a una perdita di 219, quindi 63 milioni in meno. Qualcuno dovrà ovviamente in qualche modo ripianare questa perdita. Gliela darete? Perché a loro sì e ai cittadini no? Agli anziani? Come diceva la collega Belviso agli anziani, ai disabili, ai bambini fragili, a tutte queste categorie no e a loro sì. Addirittura la dottoressa Scozzese ha fatto una dichiarazione per noi molto forte e importantissima. Ha detto che lei auspica di poter aggredire quei 4 miliardi e mezzo di spese incomprimibili. Questa è la direzione che noi vorremmo prendesse questa giunta. Questa è la direzione che secondo noi è corretta nei confronti dei cittadini, andare a tagliare quelle che sono spese incomprimibili, contratti di servizio per qualunque cosa e andare a investire sui cittadini, sul sociale. Non si può pretendere sempre di aggiustare e tirare una coperta che comunque è corta e che si riduce di ogni anno e sperare che i cittadini siano contenti. I cittadini non sono contenti. Tant'è vero che un articolo di oggi o di ieri rappresenta con una chiara evidenza di numeri peraltro di come il giudizio dei romani su questa giunta sia fortemente negativo. Le criticità, per esempio la pulizia delle strade voto 4, gli autobus e i tram voto 4,6, le soste a pagamento 4,6, raccolta rifiuti 5,2, servizi cimiteriali 5,7 per dirne alcuni. Questa giunta è bocciata. Per tutto quello che noi paghiamo in AMA noi cittadini dovremmo poter mangiare sui marciapiedi, non dico sulle strade perché ci passano le macchine ma sui marciapiedi sì. Io non ho proprio coraggio di farlo, non so voi. Per tutto quello che noi paghiamo in ATAC noi dovremmo avere autobus che passano alle fermate ogni 5 minuti, autobus possibilmente anche vuoti e con una temperatura, un clima diciamo gradevole. Non so se li avete presi recentemente, non è così, non è assolutamente così, anzi dovreste sapere molto bene che molte linee sono state tagliate. Ebbene io mi chiedo perché e quale sia il problema nell'andare a comprimere spese incomprimibili, ma se l'esigenza c'è, c'è di tagliare, si taglia e invece non c'è la possibilità di andare a investire sul sociale. Cioè quando bisogna fare i tagli i cittadini vanno benissimo, possono pagare, tanto ormai ci hanno votato, anzi vi dirò di più, al momento avete fatto l'unplan quindi noi francamente sentire gli esponenti della maggioranza che anche loro auspicano tantissime cose, ci auguriamo questo, ci auguriamo quello, ci auguriamo che Renzi liberi, svincoli dal patto di stabilità al welfare, svincoli questo, andateglielo a chiedere, governate tutto voi, tenete banco ovunque, glielo dobbiamo andare a chiedere noi, noi lo facciamo, lo sapete bene in Parlamento, non ci fermiamo un secondo, poi ci bocciate tutto ovviamente. Anzi una cosa non ce l'avete bocciata, lasciatemelo dire, era l'otto per mille all'edilizia scolastica, su quello siamo andati bene, poi però ce l'avete bocciata in aula, ce l'avete bocciata in aula perché poter garantire risorse alle scuole dei nostri figli, risorse che peraltro vengono da un contributo volontario dei cittadini, quando i fondi del Dipartimento Lavori Pubblici invece sono sottoposti a vincoli di bilancio, forse sembrava una concessione, non so, troppo, che dire, troppo populista, non lo so, siamo rimasti vietrificati ma andiamo avanti su quello, non vi preoccupate. Vi auguriamo di fare tutto, tutto quello che veramente volete realizzare, vi augureremo anche di farlo nei quattro anni che rimangono perché insomma i cittadini una risposta, i cittadini che urlano una risposta la chiedono già da 360 giorni, quindi insomma sarebbe come dire brutto arrivare a spegnere la seconda candelina, ritrovarci qui a fare di nuovo un bel elenco, una lista dei sogni di cose che si vogliono fare. Vi faccio un'ultima osservazione, abbiamo fatto la scorsa settimana con il collega Daniele Frongia, abbiamo accompagnato un disabile nel suo percorso da Cili al centro di Roma, ci ha messo, percorso ovviamente utilizzando tutti i mezzi pubblici, perché col mezzo privato insomma sono bravi tutti, mi avvio a conclusione, ci ha messo due ore e mezzo, due ore e mezzo peraltro trovando fermate anche dell'autobus inagibili, fermate della metropolitana non idone ad accogliere i disabili. Qui non si tratta solo dell'assessorato alle politiche sociali, qui si tratta di tutti gli assessorati, se vi dovete dare una svegliata ve la dovete dare perché i cittadini urlano e hanno bisogno di risposte, non tra cinque anni, non tra quattro, non tra tre, oggi, in realtà già ieri, però oggi. Quindi per favore rispondete. Grazie.